Bentornati a tutti quanti nella Rad 2. L'ultima volta siamo andati nella dimensione della Blue Sky Volendo ci sarebbe anche un'altra dimensione della Blue Sky da fare, non male, non male E potenzialmente si fa oggi, ho anche fatto a fine episodio questi tre libri Leech 4, Looting 3 e Sharnes 4 con un incantamento... boh Ho un botto di questo da riscattare Un botto, in verità no, l'ho riscattato l'ultima volta e quindi non so cosa siano queste qua Ah, di rompere gli spawner, ma pagano bene Però non mi interessano perché pagano XP e quindi, oddio, questo voglio vedere cos'è Ho ricevuto 100 XP in Dungeonering e ora ho fatto il livello 2 Sì, infatti ho livellato, ma non so cosa... cioè non so se mi dà qualche vantaggio quella skill livellata Poi tra l'altro qui non me la dà nemmeno Boh ragazzi, secondo me sono scammate quelle cose Vabbè, non ci interessano Allora, sto dicendo oggi possiamo andare nella nuova dimensione Ma volendo potrei anche incantarmi un attimino delle cose nuove Tipo andarmi a mettere la spada forte Avevo detto che volevo guardare le spade forti più che altro Ma tra l'altro, la mia... eccola qui Boh, scrivo Sword Quelle più OP dovrebbero essere quelle del drago E mentre se dovessi fare una spada oggi, ragazzi, non sarebbe una spada Utilizzarmi la dimensione che andrei a fare oggi stesso Infatti magari la facciamo dopo Però non... non è male Ad esempio qui abbiamo una spada L'Enchanter Sword Che è della Arneve Può essere iscritta con una spell La spada con una spell Quindi posso ad esempio dire che la spada fa danno? Cioè tipo fa danno come la spell? Eh sì, per forza Quindi che su... come colpisce? Bam! E allora... Oh... Ma se lo andiamo a fare subito così tanto per provare Com'è che si fa? Qua dentro serve il glifo dell'amplificazione Spada in diamante, due d'oro e due source gem block Oppure posso fare l'hammer Però l'hammer... il problema è che è sempre un... una cosa... non è un'arma È un... è un piccone Troppo è un piccone, ragazzotti È goloso, eh? 11 di danno non è male, però non è incantabile Mentre la spada sarebbe incantabile anche con sharpness Quindi molto molto buono Che dire? Entrambi? No, io comincerei con uno Anche perché, allora, i blocchi d'oro li ho, sicuro Eccoli qua Source gem... un pizzichino le ho, eh Ci mancherebbe Eeeh... no, eh? Ma davvero? Ah, no, eccole qua Eccole qua Ce l'avevo, ce l'avevo, ragazzi, tranquilli Quindi intanto questo qui si va a fare Due, due E poi, vai, si fa in diamante, si fa easy Glifo dell'amplificazione Si fa con Magic Lay e Diamond Magic Lay si fa... si fa direttamente qui Non so, non penso di averne già una, eh Quindi per quello sto facendo così, ma tanto easy Quindi un diamantino Spada in diamante... eh... così due Spada in diamante che dovrei comunque avere, ecco, da buttare qua Non ha incantamenti di nulla Proviamo, ragazzi, che dire? Proviamo Non è male, cioè rispetto alla mia, come vedete, fa anche uno e meno di danno Anche se questa qui ha uno e due di velocità Quella lì invece avrebbe leggermente di più Quindi meglio una spada più veloce che fa uno e meno di danno Piuttosto che una stra lenta Andiamo a fare il glifo Poi serviva una taiga per le bacche del mana È vero, le bacche del mana erano molto golose come roba Le avevo un po' snobbate, però alla fine ci stanno, ragazzi Diciamo che era il tondo Allora uno, due, questi così E in teoria mettendo la spada qua al centro Sbam, la va a convertire Vediamo un attimo se funziona veramente Perché io comunque non ho mai fatto sta cosa Ok E giustamente ora ho la spada E come la incanto? Ah, è vero, l'ha letto lui Nel scriber table Mamma mia, ragazzi, come mi è uscita schifosa questa, eh Ma ragazzi, non so se ci conviene Attack speed, meno Cioè, come la rerollo qua dentro Io spero con le source gem Perché è la cosa più economica che possa fare Sinceramente, però, di base era di diamante Quindi magari mettendoci il diamantino Se no, ragazzi, mi tocca già buttarla, ve lo dico Dovevo forse rerollare l'altra Diamante? Avevo malissimo Reforge No, però non mi dice il materiale che serve per ricosarla Non so, ragazzi, se la posso reforgiare a sto punto Potrebbe essere che No, non vorrà mai blocchi d'oro a robe simili O blocchi di source gem No, non... È da buttare Penso sia da buttare Non, purtroppo non dice come reforgiarla Qua dice l'envy come funziona Qua come si fa sta roba E qua dice così Ma, boh, la rifaccio Questo si riprende Il diamantino già ce l'ho Devo soltanto stare attento a una cosa A sto punto Se prende gli incantamenti della spada in diamante Oppure la va totalmente a rifare Che non ci ho fatto caso Potevo guardarlo prima? Sì, avrei potuto Vediamo Attack speed Dai, se mi esce con l'attack speed così Può anche andarmi bene, raga Può anche andarmi bene Non mi lamento Vediamo però se lo prende O se riparte proprio da zero ogni volta Allora, uno, due Cosa serviva poi? Ah già, questo messo così Mettiamo qua Spadina come sempre in mezzo Che ricordiamo aveva l'attack speed al 10% Vediamo se lo lascia nella spada Il crafting volendo è fattibile di nuovo Cioè in casi veramente volessi fare una cosa ancora più OP Attack damage Attack speed Speed Ah, beh, allora posso dire 20% di attack damage ragazzi È tanta tanta roba 15 di attack speed in meno È tanto negativo Speed in meno Chi se ne frega Perché tanto Cioè abbiamo questo qui Che ci va anche a rendere più veloci Quindi sti cavoli Buono Cioè in verità Mi può Mi può andar bene Vi dirò Mi può andar bene E comunque Ricordiamoci che va messa Nell'inscribed No, fatta Nell'inscribed table Vediamo Che è questo qua Eh ma vuole del legno Che io non so se ho Ah, ma si fa mettendolo nell'alchemy E cos'è sto alchemy qui ragazzi? No, ma sicuro si può anche trovare Ah, senza fare giri strani Eccolo qua ragazzi Vedete Si intravedono subito Questo è l'Archwood Questo è l'Archwood Andiamola a prendere Guardate Una meraviglia E in teoria Non vanno mai più presi Prendo anche i log Perché no? Cosa sei te? Nulla, ok Torniamo a casa Convertiamolo Slabine Che si vanno Beh, le ho messe Ma in verità Mi basta fare così E sbam Abbiamo fatto tutto Quindi via sta roba Mettiamo il tavolo Beh, lo sto mettendo tutta su La roba Quindi andiamo a mettere su Anche questo Perché no? Ormai ho cominciato a mettere le cose qui E continuo Ma non così storto però eh Questo qui lo metto dentro Ok C'è andato Il tavolo è al contrario Ma non ci interessa Quindi ad esempio Posso mettere Danno E poi vado di Amplificazione 2 di nuovo All'infinito Facciamo Shift destro Spell settata E ora me lo dice cosa fa? Touch Che era già di base Non dovevo metterlo io Arm Amplificazione 2x9 Amplificazione Scusatemi Ho messato qualcosa No è giusto La testiamo La testiamo ragazzi Andiamo contro Un mob qualsiasi Ne è responato uno O forse non l'avevo mai killato tutti Hanno 68 di vita 53 E mi ha consumato Tantissimo mana Comunque Consumo un botto ragazzi Quindi Eviterei di fare così Andiamo di Qualcosa tipo Che mi possa curare Tipo Non c'ho nulla Che mi possa curare Seriamente Ok Cioè Ho sbloccato schifezze assurde Fino ad ora Va bene No Rimetto il danno Rimetto Amplificazione così al massimo Che queste qui facevano un po' Ma Non consumavano tantissimo Le vado a inserire Messo dentro E vediamo un attimino Giusto Amplificazione per 10 Dovrebbe consumare anche questo In questo caso qui eh Però Andiamo un attimo a valutare Il consumo quant'è Ragazzi No no Posso tirare Posso spammare proprio con Poi comunque Fa comunque danno la spada dopo Però è una spada normale Non fa più la spell Ecco Allora sharpness E tra l'altro Non mi mette Upper cutting Che tra l'altro Non so cosa sia quel simbolino Cioè è tipo un quadratino Ma non è per la spada Boh Non so cosa sia Comunque Buono mi metta su un altro sharpness Quindi 11 di danno Ci sta Looting e range Qui cosa abbiamo Che è leech E ora Direttamente leech Ragazzi Questa è già una signora spada Che attacca da lontano Lancia una spell Quando colpisco A looting A sharpness Cioè 11 di danno E 1.6 di velocità La mia spadina di prima Che era questa qua Faceva 11 di danno Ma a 1.2 di velocità Quindi capite È già più scherzo E poi non attaccava da lontano E non poteva essere incantata Con sharpness Perché non era una spada Ma purtroppo era un picconazzo Certo Aveva l'attacca speed migliorata L'attacca di damage migliorata Tutte quelle cose lì Ma già No non le contava Già le contavo Però anche questa qui Cioè nel senso Al 20% di attacca di damage in più Non male Non male E poi ha 2.000 utilizzi Questa qui invece ne aveva 2.000 Ok Però 2.33 quella Questa qua 31 Però si ripara Quindi come se avesse anche Mending Ragazzi Sono Sono contento È un'ottima spada Oggi quindi Ufficialmente Andremo nella nuova dimensione Della blue sky Andremo a cercare il portalino E andare Andare nella dimensione A affrontare i boss Che dovrebbe essere più forti Di quelli dell'ultimo episodio Quindi Stiamo attenti Stiamo attenti Ma 1. Spada Nella dimensione lì Che è forte Perché questa viene depotenziata Questa qui comunque Può essere utile Accetta Abbiamo tutto Che portale c'è qua dentro Uh eccolo qua È quello giusto ragazzi È quello giusto a sto giro Prendo il picconcino E me lo porto a casa Buono Portale fatto Questi qua Boh ragazzi Non mi servono quattro pezzi Però intanto Lo accendo Ok E questo qui È il secondo Nonché ultimo portale Della dimensione Della dimensione Della mod Forse ce ne sono altri Non lo so Se non sbaglio O c'era una terza dimensione Che dovevano aggiungere Slash In alcune versioni Avevano già aggiunto Oppure Mi sto completamente confondendo Ma poco importa Io non è dubbio Mi scifiondo E vediamo un attimino Cosa c'è qua Dovrebbe essere come l'altra Ma tutto più scuro E Ci dovrebbe essere anche qui Due boss Ma uno forse Non l'hanno mai aggiunto Quindi vediamo Nell'acqua proprio Mamma mia Che sponda schifo Che sponda schifo Ragazzi Esploro un po' a caso Non penso Dovrei andare sotto terra Uno perché ho già la spada Tecnicamente decente Per affrontare i boss Penso Suppongo Spero Due Non so se ci sono altri materiali Che di là non ho trovato Cioè non so se c'è qualche materiale Specifico per questa dimensione Quindi boh Intanto giro un po' a caso Se sapete qualcosa Ditemelo voi ragazzi Perché io effettivamente Potrei avere dei vuoti di memoria E tutto Uh eccola qui Bene 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 La stavo quasi per perdere Meno male che ho aperto la minimappa E si vedeva un attimo In un pezzettino Comunque Ci siamo Ho la strega Vabbè tu è vero Sei vanillosa Otto No non è vero E si trova in questa dimensione Quindi automaticamente Deve rendere poco danno Comunque chiave Che poi è vero Io le chiave stanno a prendere così Mi fatevo scioppare dal Gatekeeper Tutte qua Inoltre sono per le stesse sono Allora qua no Ragazzi attenzione È diventato più complicato Il labirinto eh Mi sto perdendo No è tutta una strada unica Bah schifezze Chiavettina Ragazzi Questo era forte come boss Oh cavolo Qua sta uno sopra Era fortino no Era quello del fuoco Il mago del fuoco Via via voi Dai mi fanno male Ragazzi mi fanno male Ok perché era potenziato No è che a questo Faccio uno di danno Ma che è Allora provo con quest'altra Tanto Uno di danno Ma stai scherzando bro Sbaglio No ogni tanto gli parte Un danno extra Nove ogni tanto gli parte Sì Boh raga Non lo so Quello era super lenzo Dove tieni la chiave Andiamo direttamente dal boss Totem Scudo Chiavi Sbam Cliccato Questo qui non mi serve a nulla Totem qui in mano Siamo pronti Per forza Anche perché se no Armatura 100% Ah io questo non mi fa malino eh Ragazzi a sto giro Non ho più quello che avevo Nell'altra L'altra volta Nell'altro scontro Ovvero la geggino Che mi andava a recenerare la vita Lui tra l'altro mi avvelena anche Io ho magic protection Quindi con magic protection Effettivamente mi salvo un minimo Ma non è che non prendo danni Certo ho anche le mele d'oro Le mele di diamante Non le ho messe nell'inventario Potrebbero non servirmi Spero perlomeno E se lui non fa spawnare bob Mi va bene così Provo questa spada ragazzi Quattro No questa qui fa decisamente schifo Devo continuare con questa qua Però ti prego non far spawnare nessuno eh Non fare come l'altro tuo amico Che veramente era fastidioso Aio Ma non è Non è eccessivo ecco L'altra mi preoccupava Perché se faceva spawnare Qualcosa di potenziato Livello 2 Livello 3 Era malino malino No ragazzi Questo addirittura è più facile Dai Non può fare nulla ragazzi L'abbiamo già annientato È molto molto più facile dell'altro Sei regenerato? Ho visto male Lo sei rigenerato Aio Lo sei rigenerato Mi sembrava di meno Però Ah no perché quando va nei blocchi Si bugga Ah no si rigenera anche però eh Aio Mi ha infocato Ho anche livellato l'endurance Ottimo E questo si tippa anche Molto molto ritardo L'altro mi ricordo che in certi momenti Mi ci avvicinavo Si instant tippava Questo ragazzi guardate va Fa cagare No raga facilissimo Facilissimo dai Diciamocelo Imbarazzante Boss imbarazzante Mi faceva male Sei chiaro Ma imbarazzante comunque Trofeo Dell'alchimista E loot bag Com'è la loot bag? Rara Loot bag rara Allora abbiamo ottenuto il tavolo Non male Il vento mingot Che ci posso fare Beh Sono schifezze Questo forse è buono La sella del cammello Ok Ma non so cosa sia sta roba Non ne ho la minima idea Veramente Però ce l'abbiamo Questo qua lo butto E questo coso qui ci garantisce invisibilità Quando ci snichiamo Si però Cioè allora Io lo posso mettere qua Non mi occupa spazi nell'inventario Robi simili Però Cioè guardate Ci sono Non ci sono Ci sono Non ci sono Ci sono Non ci sono Ma l'utilità qual è? Boh Non ci costa nulla tenerlo Noi lo teniamo Però insomma 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 ragazzotti Andiamo quindi Dal boss ragno Che allora Senza fare tante storie Ho un Eh la madonna Magari ce l'ho anche qui vicino Raga ci siamo Rieccoci qua Ci andiamo Ok perfetto E Andiamo Mi prendo un poettino Di golden cose Che almeno Si mettesse male E mi ricendere un po' Questo cos'è? Uno spike shield Ma dove l'ho preso? Ma perché fa danno? Ma scusatemi È uno scudo? Sì In che senso fa danno? Cioè che attacco con questo? Con il destro mi paro È del boss Cioè nel senso che è un'arma scuro Che io lo tengo così Attacco con questo qua Faccio danno E mi paro Attacco e mi paro Con una sola mano Però Non No non penso Non attorno Ragazzi non penso Secondo me è semplicemente un'arma Che volendo para Come le vecchie spade Nella 1-8 Tutto qua Vabbè non ci importa Mi perderò brutal E non so quante chiavi servano In questo dungeon Però andiamo Probabilmente ci metteremo tanto Come nell'altro E vi assicuro Questo dungeon qui Nella vecchia versione Non c'era E sì Mi riferivo a questo Sul fatto che dovevano aggiungere qualcosa Ovviamente Mai fatto prima E vi assicuro Così Prima cesta chiave Subito Va bene Però ecco Non penso ne basti una Quello Purtroppo Prova a tenere quello scudo Invece del tuo Non ho nemmeno più lo scudo Io a posto Dove l'ho messo? Allora Il mio vecchio scudo Mi dà 12% di enduranza 5% di combattimento Questo qui già è meglio Quindi È già un motivo per usare questo Rispetto all'altro 850 utilizzi Il mio vecchio 330 Sì Uso questo ragazzi Uso sto scudo È decisamente meglio Poi Sul fatto del danno Comunque ve lo dico Cioè Per me No Cioè Non lo uso come arma Di conseguenza Il danno non lo farà Però ecco Riparare lo fa intanto Almeno quello Buono Devo dire che Per come sono messi gli spawner Sono molto più facili Dell'altro dungeon E poi i mob che spawnano Sono molto più easy Da killare Quindi raga Secondo me la dimensione È molto più facile Dell'altra Abbiamo cominciato forse Da quella più difficile Non lo so Potrebbe essere Ma raga Ma questo è quello Che voleva farmi craftare prima Cioè Che potevo craftare Lo trovo così Me lo tengo Ci mancherebbe Però Insomma Craftarlo Ecco no Ah Meno male che l'ho trovato Questa qui non è stata aperta Ecco le chiave che qui ragazzi Non ci credo Non ci credo Veramente Cioè Probabilmente era l'unica chest Che era rimasta ad aprire E seriamente C'era la chiave Va bene Scendiamo E qua si ricomincia Però Se tutto va bene È più piccolo Più piccolo la zona Forse più si scende Più piccolo Spero sia una piramide al contrario Perché veramente Se devo farmi Tre chilometri di strada È mortale Questo è già aperto Già aperto Laggiù c'è un ragnetto Forse È la parte che mi manca Vado a vedere Qua c'è un Uno spawner Non l'ho vista sta parte E c'è appunto la chest Ragazzi Se anche qui c'è la chiave È l'unica che non ha aperto Ma dai Non ci credo Ma dai Ma non ci credo Tutto completamente esplorato Una chest mancava Di nuovo Come prima E c'era la chiave dentro Troll Troll Alla 3 È la discesa Che bisogna fare noi ora Faccio il giro largo Faccio il giro largo Decisamente Mamma mia Stiamo attenti Agli arancioni Non sono abilitato A rompere i blocchi qua Aprire la chest Sì Ok Quelli combattono tra di loro Va benissimo Io li schivo E vado diretto Da questa parte qui Non lo so ragazzi Quel punto lì Non posso rompere le cose Poi qua di nuovo sì È un punto Boh Buggato Oh chiave Chiave Bene C'è solo da trovare il boss Dove trovo L'altra discesa Se c'è la discesa Se no c'è una porta C'è un qualcosa Trovo a cambiare Lated map Per vedere Sì Potrebbe essere buono Se mi abbasso Del giusto Vedo solo il tunnel Effettivamente Devo rompere quello Faccio sta tattica qui ragazzi Forse è l'unica Tanto qui è safe Assolutamente sì Mangio ancora un po' Cave mode Siamo in auto Sì Guardate Qua c'è la stanza centrale E qui c'è un tunnel E Quindi suppongo che questa qui Sia la salita o la discesa Se vado in cave mode Ad altezza poi 16 Vedete Quindi in questo caso qui Lo metto di nuovo in auto E dobbiamo andare A sud Quindi di qua Proviamo Io pensavo quella lì fosse la salita Per cui non ci stavo andando Ma a quanto pare C'era anche la discesa Sì Dovrebbe salire tutto qua dritto In teoria Però Boh Andiamo a vedere Eh ragazzi Sì Guardate Guardate un po' Era giusto Era giusto Grazie del consiglio Top consiglio della vita Quindi qua Dritto Destra E poi c'è la stanza Esatto Stanza Con appunto Il coso per inserire le chiavi Ragazzi Era facile Alla fine era facile Bastava un attimino pensarci Allora Tutte robe da buttare Protection Queste in vita Si tengono Sono molto buone E Entriamo Roba nell'inventario Mi va bene così Devo tenere altro Non mi attacca Meglio Ragazzi Spero non sia troppo forte Questo rispetto all'altro Eh Ok un pochettino mi toglie Un po' tanto mi toglie Siamo attenti Uh no Cammina sopra Che schifo E mi spara le robe Non ho nulla da lanciare Ragazzi Non ho nemmeno un arco Al massimo avrei Le magie Ma Non posso fare nulla Devo aspettare che finisca Seriamente Dai Che cavolo E vabbè Lui si la scitta però così Non mi sembra corretto Fa anche tutta la scia velenosa Ragazzi Serviva l'arco Non me lo sono portato Ok No è sceso È sceso Ok Sembra stia caricando In tanto qualcosa Sente da rumore E forse sta veramente caricando Però Eh no Ma risale subito Gli tolgo meno di un ottavo Forse un sedicesimo E poi sale Arachnofobia portami via Per fortuna non sono arachnofobico Io sono Quasi Insettofobico Nel senso che Non mi blocco Tipo Mi rabbriviliscono gli insetti Generici Soprattutto le cimici O quelle in generale che volano O che sono molto veloci Però in verità Non è che vado nel panico Mi blocco o altro Sono tipo lì Ok ok Calma 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 Non è verità calma cosa Cioè è una cimice Al massimo te scoreggia in faccia Cosa ho rotto? Sapete che non lo so L'armatura è intera Vieni qui Ah ma è ancora giù lui Però mi fa malino Ok Ma se provassi ad usare lo scudo Cioè mi para? Eh Sì dal colpo sì Dal veleno non tanto Vabbè dai Usa il libro della fireball no? Perché? Ragazzi non fa danno In questa dimensione Le magie non fa danno nulla Quindi non avrebbe senso Purtroppo L'ho già provata come cose Ma sono pressoché inutili Tutte le magie Anche quella data dal libro Mi calo una mela d'oro Oh anche nausea no eh Ecco i ragnettini Eh me l'avete detto dei ragnettini Questi sono fastidiosi Per l'armatura Per me Per la spada Che tra un po' mi sa che mi tocca attaccarlo con l'accetta E lui ha? Metà vita? E insomma Eccolo La spada La spada La raccattava E cominciava a menarmi Con una delle sue otto zampe Con la spada Perfetto E gli arachnofobici godono di nuovo Non difficile comunque Per ora non è difficile Certo Può mettersi molto male Se rompo la spada Ma non è difficile 39% di cappellino eh La vita Oh la vita Ma che è? Quando è successo? Quando l'ho persa tutta? Ah ma perché fanno male? Uno è potenziato Oh cavolo Mela Serve 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 Ragazzi con uno potenziato L'ho visto un po' arancione Effettivamente non me la voglio rischiare L'ho cantato vittoria troppo presto mi sa Ho detto che erano facili facili Però con l'arancione ha pochissima vita eh Forse l'ho giacchillato Che miseria Se scende mi attacca ragazzi è la fine No no mela 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 Perché me la rischio? Mela Ok Vado di nuovo di benda Oh ma smette di spararmi pazzo Un arancione top Sì Pensate che mi ha messo in stracrisi Un mob arancione Uno Ragazzi non ha vita Non ha vita Ci abbiamo quasi fatta Manca pochissimo No è salito Mannaggia Dai servono Tipo penso Due hit tre hit E fa spawnare i piccoli di nuovo C'è l'arancione di nuovo E se ne ho tanti gialli No ragazzi Non so se ce la faccio a sto giro Ah anche il fuoco Mi rallentano Mi rallentano Mi danno fuoco Fanno tante cose brutte Però comunque Di base Faccio un danno Non ho già eliminato uno Quindi anche se di poco È leggermente più facile Ora Uno arancione Questo che non ha molta vita Altra mela Armatura 6% Cappellino Mamma mia ragazzi Ma che sto facendo Ma veramente Ma che sto facendo Ma che sto facendo Sto sudando Basta Non voglio più affrontare Non voglio più affrontare un boss Dai Ok l'ho killato l'arancione L'ho killato L'ho killato Ultima mela Non è vero Ce n'è un altro Ma che cavolo è Ok Ci abbiamo fatta Ci abbiamo fatta Ragazzi ci abbiamo fatta Mamma mia quanto me la sono rischiata Quanto me la sono rischiata Allora Subito bende Subito mangio Lo schifo più schifo del mondo Ho dato il colpettino Ma se facessi B Gli sto facendo danno ragazzi Sto lanciando i fulmini Sì lo sto colpendo Ma non so se Non so se sto facendo danno Sì qualcosa gli sta arrivando Perché vedo il combattimento che sale Dovevo forse usarlo prima Contro i ragnettini Usiamo i fulmini ragazzi La racchetta elettrica suprema di Zeus Uno di danno vedo che fa Chi se ne frega è sceso Ragazzi è sceso Dai Oh Finalmente Ci abbiamo fatta Per due volte Mi ho rischiato la vita La seconda volta Molto più della prima Ma ci siamo riusciti Boss Affrontato Distrutto Disintegrato Lui e tutti i suoi ragnettini schifosi Ovviamente trofeo Ragazzi l'armaturina 21 utilizzi Aveva 21 utilizzi 22 ora Già meglio Già meglio Mamma mia Meno male che mi sono fermato Allora libro Da buttare Altro libro Da buttare E i totem A questo punto Li metto via Non ci servono più E andiamo a vedere Questo qui Common Quindi non ha di che Ci ha dato come loot Ma abbiamo Pozioni Di poison Non ci interessano Questo non ci interessa Questo è il trofeo Ok E poi Questo qua Incrementa il danno Di 1 Quando sono avvelenato Ma raga Fa abbastanza schifo Sta cosa Cioè io Io lo metto Però Cioè Anche no Anche no Diciamo Poi di 1 Di 1 Ma dimmi di 10 Vai 10 Ammetto che è troppo Dimmi di 5 Di 1 che è Ah boh va Usciamo Entriamo Nel portale Raga io direi che per oggi In verità abbiamo fatto anche abbastanza Ma che brutto romano ha fatto a sto giro Quando l'abbiamo attraversato Ma stai calmo Portale Stai calmo Comunque Siamo tornati a casetta Adesso conto La mia armatura è quasi distrutta Ma col tempo si riparerà Abbiamo ottenuto uno scudo Effettivamente un pochettino migliore Spadine Buone Ma che non ci interessano Quindi Non penso le sarò mai Trofei da mettere qui Assolutamente Ma cosa importante Oggi abbiamo fatto anche questa super mega spada Che Fa danno Molto interessante E veloce rispetto a quello che avevo prima E soprattutto Può lanciare le spell Ora devo un attimo vedere che spell lanciare Secondo me sarebbe meglio uno snare Che blocca il nemico Già che poi l'attacco da lontano Lui non attacca a me Quindi possiamo buggare tantissimo Magari una cosa per fare più danno Non come c'è l'ora Che è tutto sul danno Ma non ne vale la pena E poi Magari nel prossimo episodio Facciamo qualcosa Che mi cura anche a me Così io Lo attacco da lontano Lo blocco Spammo colpi Mi curo Cioè veramente Una meraviglia Non vedo l'ora di farlo Ho detto questo Per ora Con minecraft Finiamo qui Un super mega bacione Né